Sì, in questi momenti in effetti serviva una reazione che sta venendo dal mondo dello sport. La Luba Piacenza è stata la prima a raggiungere un grandissimo risultato con una promozione che ha ancora più valore perché arriva al termine di un periodo, se ricordiamo com'era la situazione del Piacenza Calcio un anno fa. Apprezziamo ancora di più questo progetto che è stato messo in campo in poco tempo ma con degli obiettivi precisi e ambiziosi. Piacenza è sugli allori in tutti gli sport e il calcio ci ha dato grosse soddisfazioni. Così Stefano Gatti, presidente onorario della Lupa, parla in comune ai giocatori della sua squadra neopromossa in Serie D che ha raccolto l'eredità del piace. Rimettere al centro la passione è stato il grande merito di questo team, ha affermato l'assessore allo sport Francesco Cacciatori che ha applaudito il progetto di rinascita della realtà bianco-rossa. Presenti in municipio tutti i giocatori e lo staff della Lupa che dal prossimo anno si chiamerà Piacenza Calcio 1919 come scelto dai lettori di Libertà e di Liberta.it. Il prossimo anno siamo in Serie D, ci chiamiamo Piacenza Calcio 1919 e adesso stiamo programmando per un ottimo campionato per il prossimo anno che il nostro progetto è in tre anni il professionismo. Mister Viali ai nostri microfoni sembra inoltre fugare gli ultimi dubbi sulla sua permanenza sulla panchina bianco-rossa. Siamo tutti indaffarati a parlare, a programmare questa nuova avventura quindi c'è grande entusiasmo da parte di tutte le componenti. Grazie. 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 Grazie.